Abbiamo stanziato ulteriori 2 milioni rispetto a quelli che normalmente, ordinariamente, il Consiglio mette a disposizione del territorio proprio per le situazioni più gravi che sono create con l'alluvione. Ancora abbiamo l'impatto di queste linee di credito e moratorie che abbiamo messo a disposizione della clientela, che sono state tante perché in questo momento abbiamo erogato più di 500 finanziamenti, 350 alle famiglie e 150 alle imprese per oltre 16 milioni di euro e abbiamo fatto più di 1.400 moratorie. L'impatto sul conto economico attualmente è intorno ai 2 milioni e mezzo, quindi uno sforzo importante, ma ripeto, la banca del territorio, la banca di credito cooperativo deve fare questo e lo stiamo facendo chiaramente cercando di dare una mano. È chiaro che l'impatto della catastrofe è stato notevolissimo, ci sono state due alluvioni, la seconda è chiaramente la più importante e poi non dobbiamo dimenticare gli eventi catastrofali che continuamente hanno colpito il nostro territorio in questo periodo di primavera estate. Diciamo che il problema delle nuove assunzioni non è un problema per la nostra BCC, ma in generale è un problema che interessa tutto il settore imprenditoriale, almeno era uno dei problemi principali fino a maggio scorso, poi è arrivato uno che probabilmente ha messo in fila le ordini di priorità, però effettivamente la ricerca di mano d'opera, soprattutto mano d'opera specializzata, mano d'opera anche stagionale, sono le problematiche che continuiamo a vivere in maniera molto forte. Il posto in banca non è più però ambito come in passato per un problema per tante motivazioni, forse la principale è gli stipendi che si sono nel tempo allineati a quelli che offre il resto del mercato del lavoro. Fra l'altro oggi i ragazzi, poi torno anche da Greco, prediligono molto cambiare, mi è stato detto che fanno due o tre anni di esperienza in un'azienda, poi a prescindere da come viene trattato hanno un piacere di cambiare. Sì, assolutamente notiamo questo tipo di... C'è più la fidelizzazione, cioè non porti la maglia numero 10 per tutta la carriera. Non c'è l'idea di entrare in un'azienda e rimanerci fino a che non si va in pensione, anche perché il traguardo della pensione si è visto sempre più lontano. E sicuramente guardano anche altri tipi di prospettive, la prospettiva di fare esperienze, di crescere professionalmente, ma anche di avere condizioni di lavoro come lo smart working. Noi che abbiamo questo tipo di opportunità vediamo che abbiamo una maggiore attrattività rispetto ad altri istituti bancari. Senta direttore, due domande velocissime. La prima legata a quello che diceva prima dell'impatto sul conto economico, di quello che state facendo per il territorio. Sarà un impatto che potrà vedere anche un utile diverso alla fine dell'anno. La seconda domanda è collegata ai dipendenti. Una curiosità, quanti siete adesso nella banca, perché siete poi la banca più importante della Romagna a livello credito cooperativo. Forse tra le prime due in Italia? Allora, partiamo dall'ultima domanda. Siamo nelle prime cinque in Italia e siamo sicuramente la più grande di banca di credito cooperativo in Romagna. Sono 660 i dipendenti attualmente, abbiamo 72 filiali e un'operatività, come dicevo, molto vasta che comprende 63 comuni. Quindi un insediamento di dimensioni che sono importanti, ma sono anche il frutto di varie aggregazioni che sono susseguite nel tempo, che però hanno avuto la capacità di mantenere quella territorialità, perché noi abbiamo sei aree territoriali che sono presidiate da un capo area, ma soprattutto da un comitato locale che è la cinghia di trasmissione dei bisogni del territorio al Consiglio di Amministrazione. Basti pensare che anche gli interventi dell'Uvione, una parte sono stati proprio dedicati a questa cinghia di trasmissione, nel senso sono stati i comitati locali che hanno individuato le priorità e le hanno segnalate al Consiglio e noi siamo intervenuti con lo stanziamento di fondi. Dal punto di vista del conto economico, ci aspettiamo un risultato meno brillante di quello che avremmo potuto conseguire. Quello dell'anno scorso era straordinario per tante motivazioni, un risultato che comunque sarà positivo, ma perché ci serve rafforzare il patrimonio della banca. Noi abbiamo superato i 500 milioni di patrimonio, abbiamo un grado di patrimonio che ha superato il 22%, e quindi è più che doppio rispetto a quello che servirebbe per la normativa di vigilanza, ma tutto questo serve a garantire i soci, che sono anche depositanti, e soprattutto garantire il territorio che siamo in grado di erogare credito, e lo stiamo facendo in misura molto importante, i segnali di flessione del credito che abbiamo letto sui giornali proprio in queste giornate, per ora non riguardano il nostro barco. Ecco, l'altra domanda, avevo questa domanda, me l'ha bruciata, me la tengo per la prossima volta, quindi non vi riguarda questa? No, noi stiamo continuando a crescere, lato impieghi, soprattutto sulle imprese, è chiaro che l'effetto alluvione purtroppo ha influito anche in questo caso, e soprattutto teniamo bene anche come mutui case, non abbiamo più i dati record dell'anno scorso, il mercato è in forte flessione, ma i nostri dati sono importanti perché siamo già a oltre 1700 mutui case, quindi direi che... I tassi caleranno? Ce l'auguriamo tutti. Ce l'auguriamo, perché il mio mutuo è aumentato notevolmente. Visto che l'inflazione è rallentata, e questo è un dato positivo, l'economia ne avrebbe bisogno, e quindi speriamo che la BCE si fermi con questo rialzo dei tassi, e speriamo, come è stato previsto poi da molti analisti, che la punta massima si tocca a settembre, per poi iniziare finalmente una discesa. Quindi devo soffrire settembre e oggi? Sarà una discesa lenta, bisogna soffrire un po'. Una sofferenza.